Poi, Pascore, è fatto gioco proprio, è venuto in coppietà, è il canestro, adesso il Pascore, in qualche istante, qui, è sopporto il palazzo, è arrivato a Romano, Pascore, 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 Rucci, va da tre, lo ha metto, è uno qui, non deve soffrire Ruvo, oggi, Arrestettino da due, canestro, 46 a 41, di cui può dare la spallata a questa squadra fa Enzo, eccolo qua la bomba di Pascore, 49 a 41, era una buona soluzione, sarebbe andato sul meno tre Ruvo, chiudendo un parziale di 5 a 0, occhio ad Aromando, da tre, va a bersaglio, occhio a Poggi, stoppato da gatto, Aromando, errore di Aromando, Poggi poi, canestro incredibile, il pubblico segue, per volversi di questa gara, prova a tornare subito, nella gara, nella serie Ruvo, Poggi, errore, rimbalzo di Aromando, canestro, e tiro libero supplementare, e il quinto di Ammannato, dalla tecno switch, ancora un fallo, a disposizione di Faenza, da rivedere il quarto fallo di Ammannato, e il quinto di Garzetti, Vico, una sentenza, Vico, Passore, c'è Petrucci, da tre, la mette, ancora una volta nell'angolo, il quinto più male a Ruvo è stato Petrucci, Vico, Finani su di lui, eccolo qua Vico, altra tripla, altro copione già visto, bomba, del 72 a 69, Faenza, riequilibri i conti in questa serie, 1 a 1. Grazie.